Potrei scrivere un libro che va in quella direzione, che parla di altri aspetti legati alla religione. Due conferenze fa, due presentazioni fa, qualcuno di voi avrà sentito Auges, il quale è già il quarto libro, credo, che di seguito scrive sulla religione, ma naturalmente ho anche scritto altri libri di altri argomenti, di matematica. Se voi salite un po' più in alto con lo sguardo sopra quelle raffigurazioni per l'appunto naturalistiche, vi accorgete anzitutto che ci sono molte palle, ma questo potrebbe essere inteso in senso metaforico, ma è invece in senso letterale, c'è uno stemma con molte palle dentro. Sopra c'è una corona, ovviamente il trireino in un papa, e sopra finalmente si vede qualcosa, non dico insensato, ma perlomeno bello da vedere. Quello è un rosone. Se voi guardate questo rosone, anzitutto potete cominciare ad esaminarlo da un punto di vista artistico, da un punto di vista anche materiale.